Ciao ragazzi, video veloce veloce di Fortress perché in game hanno aggiunto delle missioni segrete, un attimo che rompo sta cassa perché mi fa un rumore assordante, mi dà un fastidio che non sento l'audio nelle cuffie, comunque sono in carichi come quelli di Guempu, diciamo della fase 0, non so se vi ricordate, io pensavo li aggiungessero alle 3 del pomeriggio, invece ci sono già in game, il primo chiede di, io l'ho già fatta quindi non posso farvela vedere Parla ad un fan, io l'ho fatta andando da Peabody che si trova qui in basso, diciamo sotto al nitrodromo e ora vi faccio vedere cosa dovete fare, se lo trovo, dove è andato? Eccolo là Basta semplicemente parlargli, fate il punto di domanda a destra, chiede informazioni e scorrete fino a chiedi del superfan di Stark, continua, continua, ovviamente a me non mi fa andare avanti perché l'ho già fatta Vi dà 20.000 XP e vi sblocca gli altri incarichi, completa tutti gli incarichi del fan club di Stark trovati, quindi insomma ci dà anche un livello, ci dice già dove andare Ci fermiamo qui, le cozzo mi raccomando per supportare il canale, il codice creatore è sempre attivo e se lo usate taggatemi, ciao!